Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati con un nuovo cast, io sono Blackforce, siamo su Airstone Io ho fatto uno star, ho avuto un mega enorme che ha fatto volare via cose Siamo in arena, continuiamo questa arena che avevamo iniziato con una vittoria mi pare Mazzoppala che non era venuto schifosissimo Ma che ovviamente vive delle scelte di gioco, dato che non ha delle finisher incredibilmente forti Quindi cerchiamo un droppettino basso Tengo la cazzatrice, no perché la droppa 3 c'è la possibilità di provare a cambiare Si può tenere un droppa 3, comunque avete 2, 2, 2, 2 e 1 Se al posto di un 2 avesse avuto un 3 forse sarebbe stato ancora meglio Quindi un droppa 3 potete scegliere di tenerlo Questo c'ha il principe, porca puttana in arena e cala dragone di mana, primo turno Vuoi farmi incazzare allora Ora, questi mi fanno paura perché lui li potrà dare molto facilmente Può avere un dardo di gelo e fare i numeri Quindi Calo il provocazione che è un bel 3-2, attore spocchiosissimo Che ha in mano la testa di un fastidio bot Ping e trade Ok, la cosa migliore per me che potesse fare lui in questo momento Perché ora noi caliamo il nostro 2-3 Lo può togliere solo col dardo Quindi calo il 2-3 Oppure Può anche sparare con la magia che ti do a palla di fuoco Però lo spara sia su questo che su questo Indifferentemente Questo lo voglio tenere in combo per provare a pulire qualcosina Ok, anche se contro un mago fa schifo perché il turno dopo lui ti pinga E quindi fa abbastanza cagare con eguaglianza Però fa i numeri ma non ce l'ho mi pare Quindi tiriamo questa, tiriamo questa Facciamo cose Ok, questo è un pezzo 3-2-4 Non bellissimo Cioè, in media Ok 3-5 per lui Un bello alto, ecco la vita Marakmand Ok Io direi di giocare lui Ma è la scelta migliore Fare così, fare cosa E ok Questo ha più uno spell power No, quando fai ispirazione lui prende più uno spell power Quindi ha spell power infinito in linea teorica Lancia una magia casuale E vabbè Da 5 o meno mana su bersagli casuali E lui ha proprio preso il top di gamma Quindi Andremo noi a togliere lui E poi a togliere lui O Sì, credo sia la soluzione migliore Andiamo qui Facciamo cos'ha E giochiamo E giochiamo Le fa ispirazione Questo diventa un 3-2 Io poi devo tradarlo con un 5-3 Mi sta abbastanza sul cazzo come cosa Se gioco il 3-2 Lui può fare ping O andare sull'altro Quindi Credo che la soluzione sia leggermente migliore Abbiamo una bella hold Ma anche però devo riuscire a Farle prendere del value Quindi lui trada Ok Sul 5-3 E gioca un bel comandante spettrale Che non è affatto male Posso ridurlo a un 3-3 E tradarlo Molto tranquillamente Perfetto Uldaman che ha preso direi Value da questa cosa E ho un nodo nei capelli Mannaggia Luna e 18 Ovviamente Ovviamente Pala di fuoco Sul 3-4 Che cattiviera mi verrebbe da dire Ora qui noi dobbiamo fare board Più non posso L'umiltà per farmi restare quello Non mi dispiace Quindi Umiltà Umiltà Caro ragno di merda Devi essere umile Se no poteva fare Tata ping Spero non cali Pezzone a 8 Pezzone a 7 Non è che è cambiata di molto la situazione Devo dire Però va bene E gnomo meccanico Ok 2 Lo abbassa e basta Lo abbassa e basta Andiamo a sfruttarlo Finchè ce l'abbiamo Ora 3 5 6 Tutto su di lui Deve andare Per forza Non posso fare Diversamente Pezzo troppo grosso Che va Tolto Mi zennere i cosi Questo cala Posso fare così Ok Ora Lui non deve prendere Awe E comunque C'è un 6-7 Da gestire Che Credo Non gli faccia Troppo piacere Qui lui c'è un bel Toshley Un Toshley Cattivissimo Ok Ok Provocazione Non c'è un 6-7 Per menare Tac Zombie Ticcio Lo posso anche Tenere in mano Beh Posso anche giocare Effettivamente Non mi cambia Quello che mi cambia Però È Fare Almeno un danno Lo devo fare Almeno un danno Lo devo fare Per portarlo a 6 E per fare in modo Che Non posso pingarmi Almeno Quel pezzo Anche Cavaliere Scleletrico Che l'ha creato Melchazar E Toshley Lui l'ha preso Non da Melchazar Che culo Cioè Qui ragazzi Culi incredibili Questa è una giostra Mi pare Toro nel Tomas Sono strano Il tuo caso di più Sì è una giostra 2 3 4 5 Non mi dispiace 2 Così rimane vivo Però Questo lo posso fare Questo Lo tengo Lo scuro divino Facciamo che lo tengo Pam 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 Ora qui bisogna Vinciare la giostra Ragazzo Ok Perfetto Effettivamente Chi difende la giostra È favorito Perché può Perdere O perché può Scusate Vincere o parezzare Mentre chi gioca la carta Deve per forza Vincere la giostra Questa non è una gran carta Devo dire Sto Cavaliere Scleletrico Però Ok Mercante Di rinfreschi Tira sulla vita Che ci serve più per Avere board Probabilmente E noi questa La usiamo per pescare La usiamo per pescare Ingegnera Giochiamo l'ingegnera Per pescare Mi hanno fatto girare Un po' il mazzo Ok Tac Tac Continuo a tenermi Lo scuro divino Ho abbastanza Board Presence Ho girato Abbastanza Carte E siamo praticamente Per quanto riguarda Le carte Che abbiamo in mano Alla pari Devo Dopo sciogliere Questo nodo Perché Da fastidissimo Ok Ok Melz Zara giocato Inizia la partita Un 5-5-6 Mi sembra forte A me però Gli facciamo 4 danni E ci tradiamo I due pezzi Ha un nemico casuale Ha un servitore Nemi casuale Ok Tac Tac Altro comandante Spettrale E ora abbiamo Una bella board Una colonna di fuoco Ci fa sempre male Perché toglie Dei pezzi Però non Non libera totalmente Quindi Bene 10-19 Abbiamo visto veramente Tanto Qui cosa fai La faccia Ah no vabbè Sei stupido Trada qui col ping C'ha ragione Controllo un segreto Va bene Poi 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 Che farai ragazzo Oh spezza magie Me la voglio tenere Adesso voglio giocare Il drop a 4 Potevo anche Non giocare pedina Perché No in arena C'è sempre la regola Che bisogna cercare Di avere 3 pezzi Non 4 Oppure se nei 4 Deve averne Oppure se nei più di 3 Deve averne molti Pi di 3 5, 6, 7 E il problema è che Cioè la cosa che ho pensato È che lui Sì pingalo Non ha Non ha la cicciuazza Non ha Bella giocata qui lui Non ha Il Tacano controllore Perché altrimenti L'avrebbe giocata Questo Bella la sua giocata Valletta di Mediv Questo La giocata che ha fatto lui Ragazzi È Molto indicativa Per quanto riguarda Il Fatto in modo che le carte che avete Abbiano value Che questa cosa deve partire Sia dal pick delle carte Aggiustando la curva di mana Cercando sinergie Non sinergie strampalate Però C'è delle sinergie Abbastanza semplici Che prevedono quindi una Cioè Due carte in combo Nel senso Non è Non è un'idea malvagia Io posso sfruttare anche questo Vediamo se torna in vita Fa cose Ok non fa niente Più ne più due Un servitore Che lo do Ok O un ice block O un'immagine speculare Probabilmente E Quindi Serete questa combo Con due carte O già tre carte Diventa più impegnativa E la riuscite A far fruttare In partita Quindi Riuscite anche a avere Una gestione Delle risorse Quelli di in mano Non indifferente Potete Potete pensare Di vincere Abbastanza agilmente Ecco Chi lui è stato bravo A utilizzare A utilizzare Quella combo Ma ho avuto sempre Un controllo Del Della partita Migliore del suo E quindi Mi giudico la partita Ricordate sempre Le basi Le basi Le basi Le basi Sono sempre Le cose fondamentali Dove costruire un gioco Poi ci potete Mettere attorno A altre cazzatine Va bene ragazzi Il video è venuto Abbastanza lungo Quindi lo termino qui Io vi ringrazio Per la visione Vi ricordo di mettere Mi piace Commentare Iscrivervi al canale Se mi piacciono i miei video Condividerle Per aiutarmi a crescere Noi ci vediamo Al prossimo cast Ciao a tutti ragazzi